Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono... perché non riesco a saltare? Perché ho una mela, che bello, dove è la mia Eva? Eva, Eva io sono il tuo damo, dove è la mela? E va bene, cacata a parte. Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 Non riesco a saltare, Maullo941 e oggi siamo in un video, non c'è la live, aspettate che cambiamo l'inquadratura Sbagliato, perfetto, non c'è la live signorimi ma oggi andiamo semplicemente di video Cosa facciamo in questo video? Come avrete potuto leggere benissimo dalla descrizione, dal titolo Andiamo a migliorare la farm di pesca, perché signori miei? Perché l'altra volta la cassa che ho nella farm di pesca è arrivata al limite Non può più contenere nulla, perché comunque mi sono messo a pescare un bel po' e siamo arrivati al limite Che massimo può contenere quella cassa, quindi dobbiamo un attimino migliorare quella farm di pesca O meglio, dobbiamo migliorare le casse che ci sono sotto, quindi dovremmo fare una struttura sotto Dobbiamo allargarci un pochino sotto, va ecco, per dirle in parole povere E quindi lo facciamo in questo video Riusciremo ad avere dei sapling secondo voi? No Quindi andiamo a prendere direttamente da qua sotto Quanto legno ho preso? 21, ok mi dovrebbero bastare Allora, prendiamo dei sapling di questo, li piantiamo qua Così questi alberi continuano a crescere e noi abbiamo sempre tutto il legno che ci serve, signori miei Ok, e che faccio? Ce ne prendiamo per uno, prendiamo pure questo Nel frattempo sta accadendo la notte, quindi dovremmo andare anche a dormire Tutto bene ragazzoli? Quindi facciamo questo, andiamo, questo lo mettiamo qua È caduto qualcosa di interessante? Assolutamente no Oh, qua c'è un sapling, qua avevo visto dei bastongini, può essere? No, no, non avevo visto niente Allora, riposiamo i sapling Metteli lì, bellissimi, andiamo a casa a dormire Che È calata la notte, tra un poco spawnano i mostri Quindi via via, veloci, 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 veloci Allora, andiamo a dormire, andiamo a dormire Ma guardate, usa in bolt, velocissimi, velocissimi Ce la fai a dormire? Ok, ce l'abbiamo fatta a dormire Allora, noi dobbiamo fare almeno Dobbiamo scendere un bel po' sotto Quindi cosa ci serve per questo progresso? Diciamo, diciamolo Allora, di sicuro ci servono Allora, di sicuro ci serve trasformare tutto questo legno Perfetto, così Dopodiché ci servono di sicuro altre 4 casse 4 casse di cui una però ce l'abbiamo Ricordiamocelo Una, due, tre, ok E quattro, perfetto E queste sono le casse che ci servono per ingrandire la nostra farm di pesca Dopodiché ci servono Allora, io dovrei aver posato una cassa da qualche parte Mamma, il disordine regna sovrano Ecco, ah, due casse ce le abbiamo già qua Perfetto Mettiamo due casse qui E facciamo due bellissimi O per O come si chiamano in italiano Non mi ricordo Ora vediamo come si chiamano in italiano Se chiamano Tramogge Due bellissime tramogge Quindi abbiamo le tramogge Abbiamo gli scalini Ci servono le scale Perfetto Abbiamo tutto ragazzoni Abbiamo tutto Speriamo anche di avere lo spazio nella farm di pesca Per poter fare questo lavoro Però ci proviamo Ci proviamo Andiamo verso la farm di pesca E cerchiamo di migliorare Così io posso continuare a pescare Signori miei Aumentiamo i livelli E poi un giorno Chissà quando Troveremo i diamanti Potremo farci una mega armatura paurosa Possiamo anche cercare di aumentare il nostro arco Possiamo cercare di aumentare Dobbiamo cercare di trovare anche Gli incantesimi di Silk Touch E di Silk Touch E di E di fortuna Allora Noi dobbiamo Noi dobbiamo Noi dobbiamo Noi dobbiamo Aprire questa zona di qua Allora Se apro questa L'acqua se ne va No perfetto L'acqua rimane lì Perfetto Apri questo Apri questo Ora Qui ci andrà La tramoggia Quindi qua sotto Dobbiamo mettere Qua sotto Dobbiamo mettere La nostra prima cassa Allora Fermi tutti Intanto mi devi dare anche i gradini A portata di mano Dammi i gradini Così noi possiamo tranquillamente Scendere e salire di qua Direi che è la cosa migliore No? Perfetto Così scendiamo e saliamo di qua Allora qui ci va la tramoggia Qui ci va la prima cassa Qui ci va la seconda tramoggia Quindi continuiamo a scendere Quindi continuiamo a scendere E qui ci va la seconda cassa Perfetto Poi non so quanto dovremo scendere ancora di più Praticamente Però va bene Intanto Abbiamo questo riferimento Ok Quindi noi da qua potremmo comunque verificare tutto Almeno Allora Dammi le quattro casse Ricopriamo queste E facciamo Uno Due Perfetto Di qua arriviamo pure a vedere Quindi uno E due Perfetto Dopodiché Le due tramoggia Ve ne metti Una Qua No Sono scemo Una qua Che scende qua sotto Perfetto E una Allora questa cassa è piena Vi faccio vedere velocemente Che questa cassa è completamente piena Non solo questa cassa è completamente piena Ma anche L'hopper che c'è nascosto qua sotto È piena praticamente Abbiamo archi Abbiamo targhette Quindi Appena io metterò Aia mi sono fatto malissimo Appena io metterò la tramoggia qua Praticamente le cose di questa cassa Dovranno passare qua sotto Vediamo se è vero Vediamo se è vero Sbam No si No un pezzo di carne La tramoggia Ora tutto quanto Dovrà passare Velocemente Da una cassa Alla tramoggia All'altra cassa E infatti Qua sta iniziando ad arrivare i pesci Praticamente Signi di me Quindi praticamente Questa cassa Si sta iniziando a riempire Di tutto l'ambaratan Che c'è là dentro Ora Io direi che Per questa situazione Possiamo anche fermarci qua Direi che va bene L'unica cosa C'ho della pietra Andiamo a recuperare della pietra Questa cassa è messa qua volante Raga perché c'è la La nostra Canna da pesca della fortuna Ma che non mi piace per niente Quindi recuperiamo la canna da pesca Mettiamo la canna da pesca qua Recuperiamo questa cassa Ok Recuperiamo la cassa Questa cosa così Non mi piace tantissimo Ma Aspettate Dovremmo avere delle Allora Qua serve per forza Una Una Perture plate Poi a casa dovremmo avere Delle Delle botole Ok Delle botole Poi ci servono Delle Della pietra Allora Le botole La pietra Una 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 pelle Per poterci mettere Un quadretto Dobbiamo fare un quadretto Dovremmo avercelo pure Allora Ce l'ho Ce l'ho Ho in mente cosa dobbiamo fare Raga Allora Qui dovremmo avere della pelle No La pelle L'abbiamo qui No Allora la pelle L'abbiamo qui Da qualche parte C'era la pelle Raga Non me la sono consumata tutta Eccola qua Allora la pelle Ce l'abbiamo Perfetto Quindi possiamo fare Il quadretto Pelle qua Sticchettini qua Ok Sticchettini qua Ho detto Ok E abbiamo Il nostro quadretto Bello bellino Poi La canna da pesca La mettiamo nel quadretto Ci serve la pelle Ci serve la pietra normale Che la andiamo a prendere A casa nostra Sì a casa nostra Andiamo a prendere Qua sotto Qui i gatti Dovremmo fare Riprodurre Prima o poi Ok Questo è il nostro Bellissimo magazzino Andiamo a prendere Un po' di pietra normale Che ci serve Per sistemare La zona di là Poi dobbiamo recuperare Le due Botole Le due botole E basta E mi sembra Che abbiamo tutto Se non sbaglio Solamente la Persu Se è chiusa la porta Sì Ci serve un'altra Persu Allora Le botole Se non ricordo male Sono qua Ah la persu Prima ce l'abbiamo Ok Pedana a pressione Perfetto Così evitiamo di Consumare altre cose Io ricordo Che abbiamo fatto Delle 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 pedane Delle pedane Con la betulla Può essere Abbiamo fatto Delle pedane Con la betulla Ci sono due Di queste E vabbè Ci vediamo Due di queste Poi quando Troverò quelle Di betulla Che mi stanno Più simpatiche Vi daremo No Niente Non le trovo Niente Allora Torniamo velocemente Alla farm Di pesca Signori miei Signori miei Signori miei Torniamo velocemente Alla farm Di pesca Sali 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 Gira di qua Coti 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 Giro veloce Dai 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 Noi dovremmo Anche iniziare A cercare Le ender Per le signori miei Finora io ne ho due Ma con due sole Non abbiamo cosa andare A cercare Praticamente Allora Salve Buongiorno Iniziamo Presto il plate E me la ciappi Qua Perfetto Così sta porta Si apre E si chiude Senza Rottura di scatola Doviché Scendiamo Perfetto Leviamo questa pietra Di qua Che è brutta Leva 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 Tutta questa Leva 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 Perfetto E mettiamo la pietra normale Ok Pietra qua Pietra qua Pietra qua Pietra qua E pietra qua E pietra qua Perfetto E leva anche questo blocco di terra E ci metti la pietra Così Il giro è tutto Ah qua c'è un altro blocco di Di orite Lo leviamo Perfetto E ci metti la pietra Perfetto Così è tutto Bello Carino E coccoloso Lì c'è la terra Là c'è la diorite Che dovremmo levare Fermati Sali Perfetto Leva questa diorite Lì che è brutta Forte Non mi piace E levala Uno E leva Due Perfetto E poi metti Non me l'ha rotto Perché non me l'ha rotto Ora me l'ha rotta Ed è buggato di morire Qua stanno arrivando le cose Nel frattempo Sì Sì Qua piano piano Stanno arrivando tutte le cose Va bene L'importante è che funziona Che la situazione funzioni Legliamo questa diorite di qua E mettiamo la pietra Perfetto Ora ritorniamo su Ritorniamo su Mettiamo il quadretto qui Ciappete Così la canna da pesca La mettiamo qui Perfetto E Ah e le botole Botole forse però Ne potrò mettere solamente una Botola una Ok E botola due Mi sa che non me la fanno mettere Davvero perché c'è la scala Leviamo la scala Tanto non serve E mettiamo botola due Ma così è veramente brutta Allora dobbiamo metterlo te due Nel stesso senso Recuperala Recuperala Ok E me la metti pure questa In questo senso di qua Ok Così quantomeno Le calo tutte e due E io posso tranquillamente Scendere Posso scendere tranquillamente Sì mi faccio malissimo Però posso scendere Posso salire tranquillamente Sì Posso salire tranquillamente Perfetto ragazzoli Noi la nostra bellissima farm Di pesca L'abbiamo sistemata Qui tutto l'ambra Damm sta passando Negli altri hopper Quindi io posso Continuare a pescare E posso continuare A far salire i miei livelli Detto questo ragazzoli Io per questa live Per questa live Sì per questo video Mi fermo qui Noi dovremmo anche fare Una sorta di Fornace automatica Qui le nostre pecore Stanno crescendo Raga Piccolo Escursus Che non c'entra molto Con l'obiettivo del video Qui le nostre pecore Stanno crescendo Guardate che so carino Tutte le belle pecore Colorate Guardate che so carine Belle belline Ora le faremo riprodurre Così saranno tre a botta Detto questo ragazzi Vi ringrazio per la visione Vi ringrazio per i like Per i commenti Noi ci vediamo prossimamente Sul canale Per un prossimo video O live Bella raga Ciao Ciao